Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo weekly vlog, ci ho preso gusto perché è stata veramente una bellissima esperienza. Prima di tutto perché mi dà la possibilità di fermare in presa diretta le letture, i miei pensieri, fare una sorta di diario di lettura, ma anche perché mi dà la possibilità di alleggerire gran lunga Ivra Papp. I Ivra Papp sono sempre la cosa che sopporto meno, soffro di più, perché mi ritrovo veramente a condensare all'interno di un video quello che penso su 7-8 libri e purtroppo sono 7-8 libri di peso, il più delle volte, e quindi ho sempre paura di dimenticarmi qualcosa, fare qualche gaff e quant'altro. Fare questi weekly vlog mi aiuta tantissimo. Poi nell'ultimo vi avevo chiesto anche un feedback su un'ipotesi di video che volevo fare su Kafka. Me l'avete appoggiato, quindi adesso sono cavoli vostri, ve lo sorbite, non lo faccio oggi, lo devo ideare, anche perché devo ancora leggere gli scritti di Nabokov. Facciamo subito il primo aggiornamento all'interno di questo vlog, che è il volume del tempo di Salve e Balle. L'ho finito ieri, è stata davvero una bella scoperta, perché se il primo volume mi aveva lasciato un po' così insoddisfatta, nel senso che mi aveva convinto, mi era piaciuto, però ovviamente ero rimasta sospesa anch'io nel giudizio, perché qui parliamo appunto di una sospensione del tempo, un loop temporale, la protagonista si sveglia e tutti i giorni è il 18 novembre. Ovviamente solo per lei, gli altri invece avvertono il tempo che avanza. Invece in questo secondo libro ho trovato degli spedianti narrativi oltretutto più originali del primo, anche se il primo era davvero originale, ma qui ne ho trovati molti di più, ho trovato molta più verticalità nella struttura romanzo, nel discorso filosofico che la scrittrice ci vuole trasmettere. Infatti la scrittrice è una filosofa e un'altra cosa importante di questo romanzo è che il linguaggio è davvero alla portata di tutti. Vengono dati, forniti dei concetti filosofici, ma senza avvertire il peso, senza avvertirne la portata, come se lei ci stesse rivelando delle verità, ma in maniera molto semplice, in maniera molto abbordabile, anche da un lettore che non ha delle basi di filosofia solide alle spalle. Quindi questo mi è piaciuto molto, sono contenta, ve ne ho parlato nell'ultimo wrap up, che voi avete già visto, quindi io l'ho appena girato, e niente, questo è stato una conferma di questa saga, che è una saga composta da sette volumi, che è poi in corso di traduzione. Per il momento invece sto continuando Il mondo e tutto ciò che contiene di Alexander Hammond, per il momento mi sta piacendo molto, voglio continuare a leggerlo perché ho letto le prime cento pagine, e per il momento sospendo anche io il giudizio, ve ne parlerò sicuramente nei prossimi giorni. Ah, poi aggiornamento, vi avevo detto nel precedente weekly vlog che sarei andata a comprare la zona di interesse di Martin Emis, non l'ho trovato raga, ho girato due Mondadori e una Feltrinelli, non l'ho trovato, dovrebbe essere finite le copie attualmente edite, bella, sono contenta perché il film è veramente bello, secondo me è da Oscar il film, almeno per quanto riguarda la regia, è anche superiore a Oppenheimer, secondo i miei gusti, ma sono contenta del fatto che si sia tornati a pubblicare uno scrittore, spinti dal film, un film di qualità, e si sia portati poi a finirne le copie in commercio. Questo è veramente un lato positivo di quanto poi il cinema possa fare per la letteratura. Tra le altre cose ho notato nella mia bolla su Instagram che il saggiatore potrebbe pubblicare William Gladys con J.R., mi pare, ho le perizie. E sono molto contenta di questa cosa, sono molto contenta perché l'ultima copia che io ho visto costava qualcosa come 350 euro. Ma magari, ma magari, non vedo l'ora che il saggiatore lo ripubblica e scrivo al venditore che attualmente lo vende a 400-350 euro, ok, adesso lo puoi vendere a 10 euro. Ciao amici, oggi è mercoledì e facciamo un aggiornamento di lettura perché io nel frattempo ho terminato Il mondo e tutto ciò che contiene di Alexander Eamon. Mi è piaciuto, sì, ma con qualche riserva. Sembra brutto dirlo perché è una frase pluriabusata, però cercherò di dargli un contesto e di renderla motivata da una serie di disquisizioni. Quindi andiamo a parlare un attimo di l'ultimo romanzo di Alexander Eamon. È stato pubblicato qualche mese fa, quindi abbastanza recente. Siamo all'interno della Prima Guerra Mondiale, o comunque sia la storia parte, nel 1914 siamo a Sarajevo. Si sta svolgendo l'attentato all'arciduca Francesco Ferdinando. Il protagonista principale si chiama Raffaele Pinto, che è un farmacista ebreo che assiste all'attentato. Allora, dovete sapere che io registro dal cellulare, mi hanno appena giunto ad un gruppo del calcio di mio figlio. Ho il gruppo del tennis, ho il gruppo del calcio, ho il gruppo della scuola, il gruppo del non so che cosa. Ho più gruppi per i miei figli che per me. Quindi, siamo a Sarajevo, 1914, 1914, attentato, Prima Guerra Mondiale, Raffaele Pinto va al fronte a combattere. Lì conosce un ragazzo, sempre bosniaco, di Sarajevo, che si chiama Osman. Osman non è ebreo, ma è musulmano. Tra i due nasce un amore, e poi viene portato avanti per il romanzo. Questa è la storia. Tutto quello che avviene è facilmente prevedibile, perché sappiamo che cosa avviene nella Prima Guerra Mondiale. È un romanzo che però ha un impianto storico, nonostante poi si poggi a livello di storia, di trama, su un avvenimento cardine del Novecento europeo, ha un impianto storico molto debole. Ed è un impianto storico che passa in secondo piano rispetto al lato umano dei personaggi. In primo piano in questo romanzo ci sono le vite dei personaggi, le vite umane. C'è l'elemento umano, non l'elemento storico. È un romanzo dove abbiamo sul fondo la storia con la S maiuscola, in primo piano ci sono le identità. È un romanzo che parla molto di identità, perché è un romanzo che ha un impianto polilinguistico molto forte. prima di tutto perché si cerca di ricalcare il modo di parlare dei diversi personaggi e quindi essere più fedele possibile anche alle loro inflessioni linguistiche e anche all'elemento spirituale. Perché nei personaggi le religioni, e quindi le diverse religioni a cui appartengono, sono anche un modo di distinguerli spiritualmente. è una riflessione su quanto la lingua possa essere veicolo di identità e come attraverso la lingua noi andiamo a manifestare la nostra identità. In questo è molto bello, è un romanzo veramente bello su questo. C'è uno sviluppo però un po' carente che a tratti mi ha annoiato. Quello che veramente un po' mi ha lasciato perplessa è non essere avvincente e mi rendo conto che questa è una cosa prettamente soggettiva, non è stata avvincente per me. Metto tutti i dubbi del caso, questa è assolutamente una parere personale. Poi che cos'altro mi sono segnata? Si dà più spazio all'elemento umano, ok? I due partner sono di religione opposta, l'abbiamo detto sullo sfondo del ricordo di Sarajevo. Infatti quando loro si troveranno in trincea ci sarà sempre la presenza costante della città di Sarajevo. La città di Sarajevo che verrà colorata dei loro ricordi e ognuno si ricorderà dei quartieri diversi di Sarajevo. Poi ci saranno anche dei ricordi che saranno legati alla sfera familiare, come le famiglie di provenienza hanno contribuito alla formazione dell'identità degli diversi individui che popolano questa storia. Ah, poi ha un tributo a narrare, oltre ad avere una grandissima riflessione sulla lingua, è anche un tributo a narrare perché uno dei personaggi principali, Osman, è anche un grandissimo Osman, sì, è un grandissimo narratore che intrattiene i suoi commilitoni con il racconto di miti, leggende, di storie da lui inventate proprio per avere la possibilità di donargli una speranza. Nei momenti in cui sarà più difficile sopportare la guerra, Osman si ritroverà a raccontare storie e questo è ovviamente un altro tributo al potere salvifico della narrazione e soltanto narrando noi possiamo salvarci nei nostri momenti più bui. Ah, un'altra cosa che non mi è piaciuta è l'epilogo. L'epilogo è un po' spiegone, è di dascalico e l'epilogo è la cosa che avrei davvero eliminato da questo romanzo perché è la cosa che mi è piaciuta di meno. Forse non ci fosse stato l'epilogo sarebbe stato molto ma molto meglio. Ah, per quanto riguarda invece il tributo del narrare, ad un certo punto nella seconda parte del romanzo c'è un filone metanarrativo che secondo me anche in questo caso non viene sviluppato appieno. È un libro che a me è piaciuto molto leggere, la scrittura di Emon mi è piaciuta molto, è davvero una scrittura musicale che si serve anche di una lingua originaria, quindi non tradotta, non in traduzione, che va a sottolineare la stessa musicalità del testo, però è come se non fosse totalmente sfruttato. È un romanzo che cerca di legare la tenerezza, la bellezza dei rapporti umani con la brutalità della guerra e mi ha ricordato sotto alcuni punti di vista Le Benevole di Jonathan Littell, prima di tutto perché in entrambi siamo all'interno di una delle due guerre mondiali, ecco perché per Le Benevole siamo nella seconda, qui siamo nella prima. Entrambi i protagonisti sono omosessuali, il protagonista delle Benevole è omosessuale, però ha un modo di concepire l'amore totalmente diverso da questo personaggio, quindi ha un modo di amare totalmente diverso, però è anche qui un male visto dal di dentro, sotto alcuni punti di vista. Comunque di Alexander Eamon voglio assolutamente leggere il progetto Lazarus, che mi dicono sia il suo capolavoro, il suo libro è riuscito meglio. E niente ragazzi, questi erano gli aggiornamenti per mercoledì. Oggi è giovedì e ho cominciato l'Opera Galleggiante di John Barth. Ho letto le prime 30 pagine, sapevo già cosa mi sarei aspettata, mi sta piacendo tantissimo. Allora, non avevo messo nella top 10 dell'anno scorso la fine della strada di poco. Le prime 30 pagine dell'Opera Galleggiante sono una cosa stupenda. Ci sono dei punti di contatto con la fine della strada, quello senza dubbio, però qui la scrittura di Barth è molto più colloquiale. Lui si rivolge apertamente al lettore e mi sta piacendo molto. Tra le altre cose, ieri ho cominciato anche Autobiogrammatica, sì, Autobiogrammatica, anche lì l'autore, che non ricordo il cognome, è Giartosio mi sembra, si rivolge apertamente al lettore e sono due libri altamente interessanti, proprio per questo. Autobiogrammatica è proprio un discorso sul linguaggio e sulla lingua davvero particolare. Lo trovo altamente interessante e di questo ve ne parlo sicuramente nel corso di questo weekly vlog, perché secondo me c'è tanta roba qua. Allora, facciamo qualche piccolo aggiornamento su Autobiogrammatica di Tommaso Giartosio. Che cos'è l'Autobiogrammatica? Quindi partiamo dal titolo. L'Autobiogrammatica è una sorta di autobiografia a partire dal linguaggio di un individuo, cioè si parla della biografia del linguaggio a partire da dei ricordi dell'individuo. attraverso la ricostruzione dell'individuo si cerca poi di riportare il tutto al collettivo. È un libro molto strano perché è anche qui un ibrido tra un testo di saggistica del linguaggio e poi un testo invece di narrativa. Ovviamente non so quanto dei ricordi che sto leggendo siano realmente finzione e quanto sia veramente materia di memoria, materia di ricordo. E francamente nemmeno mi interessa. È molto interessante come lui riesce a muoversi tra l'analisi del linguaggio e quindi delle diverse parole, anche partire da una parola, da un nome, come per esempio Salvo, un nome abbastanza comune in Italia e fare un'analisi delle sensazioni che provoca il sentire questo nome anche in relazione a situazioni di cronaca come per esempio la mafia. Perché questo nome, per esempio, all'inizio della storia, vi sto raccontando le prime 10 pagine, è stato detto da un amico del protagonista principale, quindi della voce narrante, che parlava appunto di una vittima di mafia. E' molto interessante perché riesce ad essere attuale senza però perdere una patina di pensiero saggistico, di pensiero scientifico. Per il momento mi sta piacendo molto, sono a pagina 67, sono a pagina del silenzio, si intitola Silenzio, il capitolo, e stiamo parlando dell'inizio, il linguaggio, come nasce il linguaggio, qual è stata la prima parola. E lui scrive, il linguaggio esiste in quanto si contrappone al silenzio, infatti è vero, l'assenza di linguaggio è il silenzio. E poi continua. E' molto interessante, poi tra l'altro è stato candidato al premio strega, mi pare, da Trevi. Molto interessante, anche perché le mie letture si abbinano in questo periodo, perché sono entrambe verdi, entrambe minimum facts, anche se John Barth è nella versione minimum facts classics vecchia, invece questo è ovviamente una nuova uscita. Allora, aggiornamenti randomici, così chiudiamo questo reading vlog, trovo sempre grandissima ispirazione a farli. Allora, aggiornamento abbaccinante, mi mancano 10 pagine per finire la seconda parte e domenica, quindi domani, lo dobbiamo discutere sul gruppo Telegram. Poi, non la settimana prossima, perché la settimana prossima abbiamo la live di discussione su Kafka e quindi parleremo della metamorfosi, ma la settimana seguente faremo la live sulla seconda parte di Abbaccinante, quindi sono contentissima. Tra le altre cose, in previsione della live su Kafka, voglio recuperare gli iscritti di Nabokov, lezioni di letteratura su Kafka, perché non l'ho ancora letto, penso di leggerlo domani. Invece, quelli di Michele Mari li ho già letti e anche qualche altra cosa sparsa in giro. Aggiornamento abbaccinante, sto in piano ritmo, dopodiché ci sarà la terza parte e finiremo l'ala sinistra di Cartarescu e abbiamo un terzo della trilogia completato. Sono andata avanti con l'autobiogrammatica di Tommaso Giartosio. Vi ho parlato ieri o l'altro ieri, non mi ricordo quando, io ho una memoria che sovrassediamo, lasciamo perdere, e vi ho parlato dell'importanza del significante all'interno delle parole. Come Giartosio faccia una grandissima riflessione sul linguaggio e mi sta piacendo molto perché ha un modo nuovo o almeno un modo diverso di andare a ricostruire le memorie di una persona qualunque a partire poi da un individuo che potrebbe essere molto ordinario da un passato ordinario, poi quei concetti di linguaggio, quelle memorie rievocate possono poi fungere e andare ad intaccare a dei meccanismi che sono più universali, che fanno parte di più individui. Quindi creare un'autobiogrammatica che fosse condivisa da più persone. Poi, questo non l'ho ancora letto più di tanto e me ne dispiaccio, ma purtroppo non ho tantissimo tempo da dedicargli e mi dispiace perché gli vorrei dedicare tempo, ma non peraltro, non è nulla di performante, non me ne frega nulla di ste cazzate. Mi dispiace non leggerlo perché lo voglio leggere e non ho il tempo per farlo. Mi sta piacendo molto e trovo tantissima affinità con La fine della strada perché qui si parla di suicidio, lì si parlava di immobilismo ed è una diversa declinazione della volontà di scappare a situazioni arbitrarie del quotidiano di un individuo. Anche qui l'apparato filosofico, almeno dalle prime pagine, mi sembra altissimo. Ve ne parlerò sicuramente nei prossimi video. Invece, mi sono messa sul comodino questo, Paolo Nori, I russi sono matti. Questo l'ho comprato per colpa di qualcuno di voi perché nell'ultimo video io parlavo di Sklosky, qualcuno, un ragazzo tra voi me l'ha commentato quel video riferendosi a Sklosky e al fatto che fosse citato da Paolo Nori. Poi, attraverso delle ricerche, ho capito qual era il libro di Paolo Nori in cui veniva citato Sklosky, ma in particolare tutto il formalismo russo. I russi sono matti, questo voglio cominciarlo. Vorrei cominciarlo quando sono un pezzo avanti di questo perché sono due letture che possono benissimo fungere da cuscinetto per altre letture come dei romanzi che sono magari particolarmente, non particolarmente, sono magari più impegnativi in determinati momenti del giorno e io i saggi di critica letteraria, anche se questo non è propriamente un saggio, però ha una matrice molto ibrida, li vedo bene e li leggo bene, ho un'assimilazione migliore quando sono particolarmente stanca. Sono quel tipo di testo che mi catturano l'attenzione e non mi muovo, invece con la narrativa faccio fatica, quando sono stanca non ci riesco perché trovo che vado più, non so, mi perdo. Per esempio, quando sono stanca a Bacilante non lo leggerei mai, assolutamente. E niente ragazzi, questo era il mio weekly vlog, siamo stati insieme tutta la settimana, queste sono state le mie letture, ho finito Eamon, ho cominciato a Bacilante, no, ho cominciato l'opera galleggiante e Autobiogrammatica, sapete già quale sarà una delle mie prossime letture, io vi saluto e vi ringrazio e vi auguro buone letture. Ciao! Grazie a tutti!